Prego Lutvak. Ci sono università, ci sono università chiuse. Le università possono riaprire, basta che i studenti non vanno a casa in famiglia. Tutti dicono che è una guerra. Bene, cominciamo a comportarci in maniera seria. Le università funzionano, gli studenti non vivono a casa, si organizzano, si arrangiano. Vanno in pensione gli alberghi vuoti, che non c'è turismo. Bisogna rilanciare le attività produttive, bisogna fare ripartire la normalità. Perché il virus non viene sconfitto, vince il virus, tutti devono essere contagiati e poi finisce la cosa. A meno che qualcuno tira fuori il famoso vaccino e lo riproduce. Che non sarebbe male, ora ne parliamo.